Geoscape è uno spin-off dell'Università di Genova, una società cooperativa di libri professionisti. Nasce con l'obiettivo di portare la consulenza ambientale basata sulle più moderne tecnologie sviluppate in ambito accademico scientifico al servizio della consulenza professionale in ambito geologico ambientale. Il dimostratore che porteremo all'Innovation Village sarà una riproduzione in scala della spiaggia di Sturla. Cercheremo proprio di portare e dare nuova vita alla spiaggia di Sturla in chiave sportiva, che è il nucleo del progetto Matassa. Le attività proposte sono sabbie vive, un laboratorio adatto sia ad adulti che bambini, dove giocando con la sabbia possono vedere quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici, mentre con l'attività un tuffo nel blu potranno, utilizzando dei visori 3D, immergersi nelle splendide acque dell'area marina protetta di Portofino. E per finire ci sarà una libreria delle sabbie. Veniteci a trovare all'Innovation Village dal 24 giugno al 2 luglio presso l'Ocean Live Park. Grazie a tutti! Grazie! Grazie!